per chi sta sempre sotto i riflettori io ve lo dico pure a me capita alle volte di piangere voi manco me ne accorgete perché io di solito mi metto gli occhiali gli occhiali per non farmi vedere è successo pure una volta da Grimbaud manco lui se n'è accorto ve la racconto perché poi io ho detto pure a Simone quando Simone mise la sua canzone che mo non so ve la faccio vedere come cazzo si chiama che cazzo è questa qua un attimo aspetta come la posso far vedere un attimo ecco fermiamo un attimo scusate per questa piccola parentesi ma per farvi capire quando quando Green ha messo sta canzone vabbè rubina canzone no non è così Vicenti perché non è così perché la musica è arte frate la musica la musica ti può accostare a tante scene della tua vita belle e brutte ok e quella canzone ahimè quella canzone per me è importante perché mi ricorda lo so che lo dico sempre tutte le cose col cecchino capito e c'è stato quel momento che manco lui ci è riuscito io ho messo occhiali capito noi magari non tutti però alcuni ok noi che viviamo sempre sotto i riflettori certe cose ti fanno sta male e manco lo capite capito perché tanto il pc dietro al pc comunque ci stanno sempre quelli che ti dicono ah sta a piangere è un coglione è un coglione ce sta eh ce sta tu fai vedere un tuo punto debole ok è così però vabbè non so come spiegarvi però certe cose siccome tu passi vi spiego come funziona no quando quando raggiungi tra virgolette il successo no non sto a piangere mi sono un po' emozionato però non sto a piangere quando tu raggiungi il successo ok tra virgolette non sto a flexare un cazzo tu o almeno il metodo con cui lavori o con cui lavoro almeno io parlando per me tu passi la tua giornata nel pensare e creare cose tu non stacchi mai il cervello ok tu non stacchi mai perché se tu ce tieni a sto porco dio di lavoro tu non stacchi io ce tengo io me so io ieri mi sono sentito una merda non fa la live alle 18 ma forse sarò pure l'unico su twitch che si sente una merda non fa una live però perché io so che dell'A c'è sta gente che mi aspetta e a me non mi piace in realtà in realtà nella vita non mi piace deludere le persone ok però proprio a me non mi piace scammare no a me per far a me per far spettatori io vivo le mie emozioni le vivo davanti una telecamera e dietro la telecamera a me non fotte un cazzo dei piagni per fare spettatori e visualizzazioni mi fotte proprio un cazzo io sto sempre davanti una telecamera la maggior parte delle mie ore e quindi le emozioni alle volte me le vivo così magari se avrò fatto male io ma che cazzo devo fare è così però vabbè andiamo avanti cioè capito nemmeno nemmeno immaginate quanto certe volte è dura perché comunque in questo mondo raggiungi il successo c'è gente sempre che ti vuole mettere i bastoni fra le ruote te vuole te vuole te vuole screditare te vuole e non per scherzo raga io ho vissuto delle cose che voi manco immaginate che non ho mangiato per giorni e giorni e stavo sempre qui ma questa è un'altra cosa no buona bella Ciao